Babbo Natale è arrivato anche al canile comunale di Arezzo. Sono stati infatti raccolti quasi 500 kg di croccantini per cani grazie all'iniziativa Canile Aperto organizzato dall'EMPA di Arezzo. Le raccolte alimentari a favore degli amici a quattro zampe, ospiti del rifugio, avevano già preso avvio ad inizio mese in alcuni negozi per animali della città. Non è il primo anno, l'abbiamo fatto anche negli scorsi anni e ha avuto anche un buon successo. Quest'anno è stata anche preceduta da un'iniziativa fatta insieme ad alcuni negozi specializzati in cibo per animali che appunto collaborano con noi e hanno dato la possibilità alla cittadinanza, a chi voleva, anche di poter acquistare del cibo e farlo avere direttamente in canile. Il 25 dicembre la struttura inoltre è rimasta aperta al pubblico dalle 9 alle 13 per ricevere così i doni che la cittadinanza ha voluto portare ai trovatelli. Più di 70 le persone arrivate al canile nel giorno di Natale sono stati così raccolti quasi 500 kg di croccantini per cani, oltre 95 kg di cibo umido per cani, quasi 100 kg di croccantini per gatti ed infine 70 di cibo umido per gatti. La raccolta nei punti vendita per animali invece terminerà il prossimo 6 gennaio. Grazie.